La 92esima edizione degli Oscar sarà una sfida a quattro tra Joker, C'era una volta a Hollywood, The Irishman e 1917, anche se i candidati per il miglior film quest'anno sono addirittura nove. Per la statuetta più importante concorreranno infatti Parasite, del regista sudcoreano Bong Jong-ho, il film rivelazione candidato anche come miglior film straniero, storia di un matrimonio con Adam Driver e Scarlett Johansson, piccole donne che ha collezionato sei candidature e due outsider, la commedia nera sul nazismo Jojo Rabbit e Ford vs Ferrari con Matt Damon e Christian Bale. Alla cerimonia di consegna dei premi che si trarà il 9 febbraio, Joker arriverà con ben 11 candidature, mentre i film di Quentin Tarantino, Martin Scorsese e Sam Mendes ne hanno 10. Tra i migliori attori la gara sarà tra Joaquin Phoenix, DiCaprio, Adam Driver, Jonathan Price per i due papi e a sorpresa Antonio Banderas per il film di Almodovar Dolori Gloria. Tra le donne invece l'outsider è Cinzia Erivo, interprete di Harriet, che dovrà vedersela con la super favorita Renée Zellweger che interpreta Judy Garland, con Charles Eisteron per Bombshell, Scarlett Johansson e Shorsi Ronan. E per capire bene l'alto livello che quest'anno toccano i film in lizza per gli Oscar, basta vedere l'elenco degli attori candidati come non protagonisti, Al Pacino, Joe Pesci, Tom Hanks, Brad Pitt, Anthony Hopkins, mentre tra le donne Scarlett Johansson fa il bis. È candidata sia come protagonista che come non protagonista. Visto che finora non ha mai vinto un Oscar, molto probabilmente quest'anno è arrivato anche il suo turno. Grazie. Grazie.